Vespote dove sei? Ma padrone! Il vostro male! Andate concertando! Metti un po'! Con costruini! Hai tu! Concluso! Io ho concluso! E ho concluso! Adesso! La serva padrona Ischen Alcamo è stato infatti il salone della Casa della Musica di Arezzo ad ospitare il delizioso intermezzo buffo di Pergolesi nell'allestimento che è stato oggetto proprio in questi giorni di un interessante laboratorio. È un progetto che è nato da una collaborazione tra la Scuola di Musica di Fiesole e la Camo di Arezzo per coinvolgere il maggior numero possibile di giovani e invogliarli all'ascolto e alla partecipazione nel mondo dell'opera lirica. Hanno infatti partecipato al progetto l'Assembla Musicale del Liceo Musicale Petrarca a cui si sono aggiunti alcuni allievi della scuola e gli studenti del Liceo Teatrale Colonna di Arezzo. Questi giorni di prove i ragazzi hanno seguito, hanno cercato di capire il senso anche ironico del collegamento tra testo e musica, anche profondo e anche di un modo di parlare, un modo di pensare, un modo di esprimersi proprio con il testo tipico di un'Italia del Settecento.